In sediato Palazzo Sant'Agostino, il primo consiglio provinciale per la convalida degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali che si sono svolte lo scorso 3 febbraio. Per la seduta di oggi del consiglio guidato dal presidente Michele Estrianese, ancora nessuna assegnazione di deleghe ma la convalida dei consiglieri provinciali che supporteranno nel governo l'ente territoriale. Una squadra di amministratori locali che avrà il compito di lavorare su progetti e azioni per favorire lo sviluppo del territorio per una provincia molto estesa, per rispondere alle necessità dei cittadini. Senza sosta, ovviamente adesso con il nuovo consiglio provinciale, da oggi, dopo la convalida degli eletti già proclamati il 4 febbraio, dopo le elezioni, questo primo consiglio è stato un consiglio provinciale di insediamento dei vari gruppi consigliari, dei nuovi consiglieri provinciali. Io non ho interrotto mai il mio lavoro, ma nei prossimi giorni parleremo anche delle varie deleghe ai consiglieri, quindi tutti mi dovranno dare una mano, anche perché con questa legge il numero dei consiglieri è ridotto, non ci sono gli assessori, non c'è la giunta provinciale, e quindi c'è bisogno di una mano di tutti, perché abbiamo una provincia estesa con tantissimi problemi, che nonostante la legge di riforma del rio mantiene tantissime competenze importanti, come viabilità, ambiente, territorio, pianificazione urbanistica, dissesso idrogeologico, difesa del suolo. Abbiamo circa 340 milioni di euro di appalti in corso, cantieri aperti, impegni spese già fatti, gare in corso di realizzazione, per cui c'è tanto lavoro da fare e quindi mi auguro che questo buon consiglio provinciale che è stato eletto sia sempre responsabile. Tra i rieletti ci sono tanti consiglieri provinciali che hanno ben fatto negli anni passati, quindi tendenzialmente ci sarà sicuramente qualche riconferma di deleghe per continuare a lavorare su un settore per il quale si è già lavorato. Quindi mi sembra giusto in alcuni casi, ma ci sono tanti consiglieri nuovi, appena eletti, che saranno coinvolti, diciamo, nelle varie tematiche, perché la provincia, oltre ad avere le funzioni fondamentali, ha comunque competenza in termini di indirizzo, di proposta, di vigilanza e di controllo su tante tematiche importanti, come per esempio le politiche del lavoro, la sanità, le politiche sociali. La provincia continua a dire la sua anche sul turismo, sullo sviluppo turistico e quant'altro.